allora buongiorno a tutti benvenuti a questo webinar del lunedì mattina e sono già collegati con noi serena nella rappresentanza italiana di prom perù buongiorno serena ciao ciao a tutti buongiorno non lo vedete ma c'è anche gianluca di conrad travel eccomi qui buongiorno sempre all'oscuro mantengo un'immagine di mistero la tua voce forte chiara quindi va benissimo allora come al solito mi rivolgo ai partecipanti potete fare tutte le domande che volete nella dashboard le affronteremo insieme a serena e a gianluca al termine della presentazione e il webinar già in fase di registrazione quindi passo direttamente la linea serena e ci vediamo e ci sentiamo più tardi grazie mille riccardo grazie mille anche a gianluca per insomma accompagnare anche noi in questo in questo fantastico viaggio direi come per la volta passata quest'oggi insomma ci addentreremo scusatemi eh nel alla scoperta del della parte meridionale del perù e appunto come per la volta passata vediamo un pochettino attraverso un brevissimo quiz con qualche domanda quanto conosciamo il il sud della della destinazione ok procediamo con con la prima domanda perfetto come per l'altra volta direi non abbiate paura di sbagliare non abbiate paura se non la sapete si tratta solo di un di un piccolo test nessuno non diamo voti e non giudichiamo chiaramente alla fine del del breve quiz daremo tutte le risposte in modo tale da anticipare alcune delle informazioni che vedremo insieme quest'oggi nel nostro viaggio virtuale che stanno continuando a votare quindi attendiamo qualche assolutamente ok direi di siamo arrivati a una buona percentuale ottima condivido i risultati eccoli qua serena si vedo riesce a visualizzare i tuoi risultati non riesco a visualizzarli solo un secondo e provo a prego un attimo bloccato il tutto vediamo un po' perché non li vedo Riccardo comunque ti dico il 58% la prima domanda ha risposto la festa della Vergine della Candelora il 38% il Corpus Christi di Cusco il 4% l'anniversario della città di Lima direi che quindi la maggioranza ha dato la risposta corretta perché si trattava appunto del Festival della Vergine della Candelora perfetto vado con la seconda domanda preparatissimi grazie assolutamente anche qui stanno arrivando abbastanza velocemente le risposte ottima un pochettino più incerto questo qui bene bene ma non è nessun problema tanto oggi vedremo tutto insomma vedremo tutto insieme quindi ci sarà modo insomma di chiarire eventuali dubbi affrontare i tempi esatto ok ok ho ricondiviso le risposte con tutti comunque il 54% alla domanda ha risposto nelle isole Vallestas non so se l'ho pronunciato Vallestas sì perfetto il 28% alle isole Palomino e il restante 18% nelle isole degli Ross ok perfetto allora la risposta corretta erano le isole Vallestas benché una parte della popolazione leggermente inferiore a quella delle isole Vallestas viva anche alle isole Palomino quindi era un po' una domanda a trabocchetto a trabocchetto vado con la terza sali più cattivi oggi bene anche qui stanno siamo già al 50% ottima rapidissimi di utenti eh sì questa ok chiudiamo il sondaggio e mostriamo i risultati 87% Condor 11% Aquila 2% Falco perfetto la risposta corretta era ovviamente Condor vedremo poi insomma nel nostro viaggio dove e come poter fare questa attività ok lancio l'ultima domanda del sondaggio questo è un pochettino più in bilico eh molto in bilico ok vediamo vediamo cosa ci diranno ok direi di chiudere anche quest'ultima quest'ultima ok domanda e le risposte sono per il 46% Morei o Morai Morai 34% le saline di Maras e il 19% Pisac perdonate la pronuncia non ti preoccupare non c'è problema la risposta corretta era Morai ed era proprio Morai lo vedremo insieme quest'oggi il centro di sperimentazione agraria degli Inca vedremo più tardi insieme il suo il suo funzionamento per cui direi che dai tutto sommato il sud del Perù lo conosciamo lo conosciamo abbastanza bene cerchiamo oggi di darvi insomma qualche si vede già il tuo schermo si vede già il tuo schermo quindi puoi procedere a dopo ottimo a dopo grazie mille Riccardo per cui direi di entrare direttamente nel nel vivo della destinazione riprendiamo insomma il discorso sempre importante sull'estensione la grandezza di questa destinazione 24 regioni di cui oggi vedremo principalmente insomma quelle del del circuito classico della parte sud del del Perù anche qui mi raccomando sempre tener bene presente le le distanze quando appunto eh proponiamo l'itinerario insomma eh del nostro operatorio al cliente sempre farlo appunto in base alla disponibilità di giorni che ha eh che ha proprio per tenere conto dei vari spostamenti eh per quanto riguarda anche il circuito sud è importante sempre tener presente come eh si si suddivise eh fondamentalmente la il territorio peruviano nelle sue nelle sue zone climatiche quindi abbiamo sempre perché la divisione avviene quasi in verticale eh diciamo la parte costiera il 12% che godi di un clima eh insomma mh favorevole durante tutto il corso dell'anno la fascia andina eh che occupa il 28% quello della foresta amazonica che invece sono più che altro soggette alla classica stagionalità che più o meno abbiamo detto essere eh decorrere più o meno da eh il mese di aprile fino alla fine di ottobre eh così a Spanne per cui eh soprattutto su questa fascia che anche oggi vedremo su queste due fasce scusate eh che anche oggi vedremo vedremo insieme vedremo quali sono le destinazioni che appunto ne ne fanno parte eh tenete sempre presente la eh la stagionalità e adesso invece entriamo insomma nel nel vivo con qualche piccola anticipazione anche per il circuito sud chiaramente eh vedremo insomma tutto quello che è la storia e insomma e le grandi tra cui quella che vediamo in diapositive e le grandi scoperte che insomma accompagnano il viaggiatore durante un percorso in questa parte del Perù eh vedremo siti archeologici riconosciuti dall'UNESCO e siti archeologici che magari eh diciamo così un po' più da intenditori ancora non conosciutissimi ai più eh la grande biodiversità eh la biodiversità del Perù la si incontra in tutte le sue fasce climatiche quindi non parliamo soltanto di foresta ma anche oggi lo vedremo ad esempio ad Arequipa ma anche a Cusco ma anche nella parte in realtà di Ica che sulla fascia costiera quale sia e quanto sia ricca la tutta la biodiversità del territorio e quante esperienze ci regali non soltanto a contatto magari con ciò che sono appunto gli elementi storico-culturali della destinazione ma ci sta a sorprendere anche dal punto di vista naturalistico in tutte le sue insomma in tutte le sue regioni e poi le avventure anche oggi chiaramente nel circuito eh classico non si faranno attendere le esperienze da poter proporre a quei viaggiatori che sono alla ricerca del insomma di un soggiorno all'insegna dell'adrenalina o anche solo per una parte all'insegna dell'adrenalina altra cosa sempre importantissima ovviamente sono e la parte di cultura la cultura viva del popolo peruviano che accompagna il viaggiatore accompagna un viaggio in Perù in tutte le sue varie fasi per cui anche in questo caso controllate sempre il calendario dei festival e delle festività in Perù quando prenotate un viaggio per i vostri clienti perché le feste si susseguono durante tutto il corso dell'anno da febbraio insomma alla fine dell'anno ma anche a gennaio in realtà appunto ci sono feste in ogni dove è sempre un'occasione unica per i vostri clienti riuscire a partecipare almeno ad una perché si riesce a toccare con mano quella che è appunto la cultura viva la vera cultura della popolazione peruviana che viene tramandata effettivamente da millenni e di famiglia in famiglia e di padre in figlio per cui anche in questo caso e anche nel circuito sud come anche abbiamo già visto dal quiz le feste non mancano e alcune sono addirittura patrimonio materiale dell'umanità secondo l'UNESCO partiamo quest'oggi dalla insomma da una regione che ospita la capitale del Perù da Lima partiamo dall'unica capitale del Sud America ad affacciarsi sull'oceano Pacifico quindi un assolutamente un crocevia di culture di persone una metropoli vivace una metropoli assolutamente legata al proprio passato ma con una forte proiezione verso il futuro Lima è davvero una città da scoprire a cui dedicare comunque almeno almeno un paio di giorni se non di più è una città appunto che ci fa scoprire quelli iniziamo ad assaporare proprio dalla capitale tutti i volti del Perù quindi dicevamo un forte attaccamento alla tradizione alla propria storia alla propria cultura ma anche una forte proiezione verso quello che sarà è una capitale che offre esperienze per tutti i gusti gli appassionati di storia e cultura non hanno che da scegliere tra i numerosi musei il centro storico che è patrimonio anche qui dell'UNESCO cosa che in pochi sanno ma che è sempre bene tenere in considerazione quando appunto si pianifica la visita a Lima una natura rigogliosa trovandosi in città e una serie di avventure e di esperienze da fare proprio a contatto con la natura abbondano i parchi ce ne sono insomma c'è il parco della riserva il circuito magico dell'acqua il parco della mor che sono tutti i parchi dove si avvicinarsi appunto a quella che è la natura anche della metropoli ma dove insomma anche mischiarsi ai limennios che magari invece frequentano questi parchi queste messe soprattutto durante i weekend e poi come non dimenticare come non menzionare la gastronomia quindi una Lima assolutamente adatta a tutti i palati e a tutte le tasche vedremo insieme qualcosina parlavamo di musei e quindi anche qui insomma Lima ne ospita tantissimi non abbiamo il tempo di vederli quest'oggi tutti quanti ma sappiate che ce ne sono davvero per tutti i gusti sicuramente propedeutico a una visita e a un circuito sia nel sud che nel nord il museo nazionale di archeologia che diciamo ci dà quell'infarinatura che può servire per comprendere meglio ciò che visiteremo nell'itinerario che ci apprestiamo poi a svolgere nel resto del Perù ma davvero abbiamo visto appunto il suo centro scusate il suo centro storico il suo centro storico ospita davvero la Plaza Maior che è una piazza meravigliosa dove qui Pizarro ad esempio Fondolima nel 1535 la cattedrale che ospita proprio la tomba di Pizarro ma non soltanto nei quartieri di Miraflores e di Barranco in realtà si possono insomma vedere tanti altri musei tante altre chicche così sia più o meno o meno conosciute i due quartieri di Miraflores e Barranco sono ben collegati si possono appunto visitare o a piedi o in un tour in bicicletta con una fantastica vista sull'oceano Pacifico qui si aprono appunto poi una serie di possibilità ad esempio nella parte di Miraflores per chi lo desidera è possibile fare parapendì o direttamente sull'oceano Pacifico chi lo desidera addirittura trova degli ottimi spot in cui fare surf chi è appassionato invece di insomma di natura e di fauna e flora perché non andare a Cagliau scoprire inizialmente quelle che sono le gallerie d'arte contemporanea che sono recentemente nate e sono in Florida espansione e poi imbarcarsi per un tour per esplorare le isole Palomino che abbiamo già menzionato nel quiz che sono queste appunto queste isole si trovano proprio praticamente di fronte a questa parte di Lima metropolitana e qui è possibile ammirare i leoni marini coloro che lo desiderano possono anche provare a nuotare insieme a loro e quando si è fortunati si possono anche avvistare i pinguini di Humboldt per cui a poca distanza insomma dalla città tutto questo è molto altro abbiamo parlato poi anche di ristoranti come non insomma non nominare la gastronomia della capitale innanzitutto tre in Peru vi sono tre dei ristoranti tra i migliori ristoranti del mondo secondo appunto i 50 best of the world quindi comunque ristoranti rinomatissimi dalla cucina ricercata sia legata alla tradizione sia legata ad esempio alla cucina fusion come mi viene adesso in mente il Maido che appunto è un ristorante di cucina Nikkei pluripremiato ma anche cucina insomma senza che non deve per forza passare da grandi premi per catturare e per convincere anche i palati più esigenti anche facendo un tour tra i guariche della città che sono delle specie di osterie che servono degli assaggi di pietanze tipiche perubiane sia assolutamente un modo divertente e appassionante insomma di scoprire quella che è la gastronomia del paese per cui tutto questo è molto altro una capitale davvero che offre un po' tutto per tutti i gusti e di nuovo spostandoci proprio poco poco distante dalla metropoli possiamo anche visitare alcuni tipi archeologici ho dimenticato di nominarlo ma anche all'interno della città addirittura nel quartiere di Miraflores che è un quartiere insomma molto moderno molto conosciuto e molto vivace insomma tra tutta questa modernità è possibile ad esempio vedere Waka Pulcana che è appunto una Waka in significa in linea generale per farvela breve tempio e appunto avvolta da tanta modernità ecco che si apre una piramide trocca della cultura lima che è proprio quella da cui prende il nome sia la capitale che la regione e che insomma possiamo vedere anche solo così camminando a piedi per questa parte della città spostandoci un po' fuori invece possiamo giungere fino a Karal Karal che è appunto questo sito archeologico risale a più di 5.000 anni fa quindi è un'importanza testimonianza storica di tutto ciò che è avvenuto in Perù già prima insomma dell'avvento dell'impero inca che sicuramente è quello che più si conosce ma che non è come abbiamo già visto nel percorso precedente l'unica civiltà che ha abitato questi luoghi abitata appunto nello stesso in periodo in cui fiorivano in questa parte del mondo magari la civiltà egizia quella mesopotamica spostandoci ancora più in là quella cinese per cui è una storia davvero ricca che ha fatto proprio e ha determinato le origini non soltanto di tutto ciò che è avvenuto in Perù ma di tutto ciò che è avvenuto anche in quest'area del mondo ci spostiamo e abbandoniamo per un secondo la parte di di Lima e proseguiamo appunto verso verso sud andiamo questa volta verso Ica vedete che ci troviamo sempre in quella fascia costiera che abbiamo visto all'inizio del nostro viaggio virtuale e qui appunto abbiamo più o meno storie tutto l'anno entriamo in un dipartimento caratterizzato da queste alte dune tra le più alte del mondo ma non soltanto quindi un insomma una parte desertica e scopriremo insieme che si tratta anche di un deserto fertile per cui in realtà davvero cambia come dicevamo all'inizio il panorama cambia anche solo svoltando ad ogni curva qui appunto anche in questo dipartimento abbondano le esperienze ovviamente esperienze adrenaliniche come quelle che vedete qui in diapositiva esperienze invece anche a contatto con Ica storico culturale e proprio qui introduciamo le famosissime linee di Nazca linee in in basso rilievo tracciato da questa popolazione preincaica che si chiamava appunto la popolazione Nazca che rappresentano secondo diciamo l'ipotesi più accreditata ma ce ne sono tante un calendario linee a volte dal mistero perché non si ancora oggi non si riesce a spiegare come queste linee in basso rilievo fossero tracciate in maniera così precisa e su estensioni così importanti senza avere una visuale aerea del terreno per cui appunto è interessantissimo insomma sentirne scoprirne di più qualora le si riesca a visitare i modi per apprezzarle maggiormente ovviamente sono attraverso dei bel vedere che però ovviamente ci danno una visione parziale della linea di Nazca oppure attraverso dei piccoli voli che insomma le sorvolano sono dei voli più o meno da dieci posti le compagnie che li offrono sono tutte compagnie certificate quindi sicure è consigliabile fare il tour a stomaco vuoto perché per poter consentire a tutti i passeggeri di vedere le linee di Nazca e apprezzarle della propria interesse queste aeree devono fare alcune virate per cui diciamo che per chi ha paura dell'aereo è meglio consigliare i bel vedere oppure niente paura insomma ci sarà e ve lo vedremo adesso insieme la possibilità di amminare un'altra linea di Nazca senza dover per forza fare il sorvolo abbiamo detto appunto attività adrenalinica come ad esempio il sandboard nel deserto di Ica e poi appunto escursioni escursioni alla scoperta della fauna e della flora di questi luoghi che però ci regalano anche la visuale su l'unica linea di Nazca che è ammirabile anche così di amare quindi senza dover per forza imbarcarsi sul volo di cui parlavamo poco fa da qui appunto si andando verso la riserva di Paracas è possibile vedere il candelabro che è la linea di Nazca che vedete qui sullo sfondo della diapositiva e poi fuori dal parco nazionale della riserva nazionale di Paracas ammirare anche le isole Bayestas dove appunto vive più del 50% della popolazione di leoni marini del Perù e dove è anche possibile ammirare qualche pinguino di Humboldt quando si è particolarmente fortunati per cui un'escursione questa tra la riserva nazionale di Paracas e le isole Bayestas che può essere fatta in giornata che ci regala davvero una proiezione sulla natura di questo luogo apparentemente solo circondato insomma così da dune ma che in realtà ospita tanti tesori nascosti come ad esempio questo ma appunto Ica è anche insomma da Ica passa anche quella che viene chiamata la ruta del pisco un percorso alla scoperta delle bodeghe in cui viene distillato insomma la bevanda nazionale che è proprio il pisco quindi è proprio qui che vi sono alcuni dei vigneti e da qui anche appunto capiamo che si tratti proprio di un di un deserto fertile non soltanto insomma così di estese due di sabbia e qui uno scorcio della riserva nazionale di Paracas che ci insomma in realtà ci può anche ricordare altre parti del mondo ma che è unica è inimitabile dal punto di vista della fauna e della flora che ospita quindi assolutamente da consigliare se pensiamo che si tratta appunto di 335 ettari di ecosistema costiero che insomma comprende tutto ciò che vediamo in depositiva quindi deserti spiagge isole litorali e dei labbitati insomma di alcune specie che sono autoctone proprio di questi luoghi e ora ci spostiamo nuovamente proseguiamo la nostra rotta verso sud e andiamo insomma ad Arequipa partiamo ad Arequipa anche insomma per una questione di acclimatamento come vedete iniziamo a salire mentre prima ci trovavamo ovviamente sul livello del mare qui invece iniziamo il nostro percorso in salita siamo a 2300 metri super giù si tratta di un dipartimento incastonato fondamentalmente tra l'oceano e le ande per cui anche qui capite che l'ecosistema è davvero ricchissimo chiaramente il dipartimento è reso in primis celebre proprio dalla città che dall'omonima città che è proprio Arequipa una città ricca di storia una città dal panorama unico perché circondata da tre vulcani il più famoso è quello che vedete qui insomma nella diapositiva che è il vulcano che è il vulcano Misti una città insomma fervente a livello culturale che offre esperienze e attività un po' per tutti i gusti partendo dalle ville di architettura risalette principalmente tra il XVII e XVIII secolo come ad esempio Casa Moral che è uno degli esempi più riusciti di barocco Arequipegno fino al quartiere di San Lazaro per dire che è il quartiere più antico di Arequipa un favoloso centro storico Arequipa viene anche chiamata la città bianca perché è costruita principalmente in pietra sillare eventualmente una pietra vulcanica che eventualmente si può anche andare a vedere come viene lavorata dagli artigiani del luogo e poi ovviamente insomma questo uno scorcio appunto della di alcuni edifici in pietra sillare del centro storico e poi il monastero di Santa Catalina una vera e propria città all'interno della città un monastero appunto in cui in epoca coloniale era abitato fondamentalmente da dalle aristocratiche spagnole che in patria non si sposavano e venivano qui per ritirarsi in preghiera enorme si tratta appunto di un complesso davvero davvero grande vedete anche qui composto da cittadelle piatti chiostri insomma chi più ne ha ne metta una parte di questo monastero di Santa Catalina è tuttora abitato da alcune monache mentre tutto il resto è tranquillamente visitabile dai nostri viaggiatori e perché no anche da noi e poi appunto Arequipa come diciamo così porta di partenza per la visita di quelle che sono alcune delle valli più interessanti più belle del mondo la valle il Kenya del Kolka tanto per fare un esempio una destinazione inesauribile unisce ricchezze naturali storia per chi lo desidera anche la possibilità di fare sport avventurosi come andinismo chiaramente il canottaggio mountain bike insomma camminate cavalcate chi più ne ha ne metta sicuramente si tratta appunto di uno dei canyon più profondi del mondo e tra le attività che lo rendono altrettanto celebre c'è anche quello dedicato all'avvistamento del condor un'attività che è possibile fare o in escursione giornaliera partendo proprio dalla città di Arequipa oppure sappiate che lungo la valle sono disseminati più o meno 14 villaggi coloniali da cui insomma è possibile partire per l'escursione che avviene normalmente la mattina alle prime luci dell'alba perché è proprio in questo momento che il condor insomma si nutre durante la giornata quindi il momento migliore per avvistarlo sicuramente è questo e si tratta di un'escursione dal punto di vista naturalistico molto molto interessante basta pensare che l'apertura all'area del condor può arrivare fino a tre metri quindi riuscire a vederlo come e ad ammirarlo come sta facendo la ragazza nella diapositiva è sicuramente un'occasione da non lasciarsi sfuggire ma anche insomma è interessante farlo in escursione guidata ed è una cosa che consigliamo sempre a prescindere perché ovviamente le guide accompagnano questo avvistamento con racconti relativi alle leggende insomma andine che caratterizzano proprio questo questo animale per cui arricchiscono anche dal punto di vista culturale questa escursione è tanto bella dal punto di vista naturalistico e poi ancora per chi io desiderasse le acque termali della valle del Colca si tratta proprio di Terminkai che quindi alcune delle pozze erano già utilizzate addirittura durante l'impero ce ne sono sia appunto disponibili chiamiamole così comunali sia appunto altre che invece sono all'interno di resort lì insomma sta a noi un po' capire quali siano le esigenze dei nostri clienti e consigliare uno o l'altra esperienza direi che comunque dopo diciamo un'escursione nella valle del Colca così adrenalinica e così impegnativa dal punto di vista fisico perché no a fine giornata concedersi un bagno rilassante in queste Terminkai che insomma non sia non sia totalmente da escludere anzi e ci spostiamo nuovamente questa volta andiamo invece verso Puno attenzione qui iniziamo a salire vedete che dai 2300 metri circa di Arequipa arriviamo quasi a 3000 anzi arriviamo a 3800 metri sul livello del mare per cui insomma iniziamo un po' questo questo acclimatamento vedete anche qui quelle che sono le caratteristiche proprio della regione a livello climatico quindi insomma ricordate sempre la la stagionalità e non avrete sicuramente problemi sicuramente il dipartimento è reso celebre perché ospita il lago navigabile più alto del mondo il lago Titicaca lago Titicaca che ovviamente ci sorprende al colpo d'occhio perché è appunto un lago immenso un lago che ospita insomma tante specie tante caratteristiche che non sono riscontrabili in altre parti del mondo e tra queste in realtà ospita anche una serie di culture uniche nel loro genere ad esempio le isole degli Uros queste isole di questa popolazione sono isole artificiali costruite in questo materiale autottono che si chiama Totora le isole appunto si occupano direttamente gli Uros della manutenzione e della insomma della revisione quando necessaria è interessantissimo chiaramente fare la conoscenza anche della popolazione per conoscere questa e le altre tradizioni che si tramandano di padre in figlio quotidianamente ma non ci sono soltanto le isole degli Uros ma il lago Titicaca sono disponibili anche isole naturali la cui visita è assolutamente unica isole come quella di Tachile che è considerata patrimonio immateriale dell'umanità perché ha una ricca tradizione insomma testile che anche qui si tramanda veramente da tempo immemore e che viene soprattutto portata avanti e così sviluppata dalla popolazione maschile dell'isola ma questa è solo una parte insomma di quello che nasconde o comunque sia che custodisce il lago Titicaca ci sono anche altre isole come a Mantani insomma che ci danno anche insomma la possibilità non solo di scoprire il lago Titicaca di per sé ma anche quei siti archeologici o quei punti di interesse storico all'interno del lago che lo rendono ancora più prezioso e poi abbiamo visto appunto la cultura viva la festa della Vergine della Candelaria si tiene a febbraio è davvero una festa patrimonio culturale dell'umanità è una grande festa che in realtà riunisce un sacco di corpi di ballo provenienti da tutta la regione dura una settimana e durante questa settimana i corpi di ballo si sfidano insomma in danze folcloriche che coinvolgono i viaggiatori partecipano 140 gruppi folcloristici con oltre 40.000 ballerini e 12.000 musicisti tanto per farvi capire insomma l'importanza e l'entità della festa una festa che è un ottimo connubio tra tradizioni del passato legate magari a quel passato così più incaico e invece tradizioni poi portate con insomma il colonialismo per cui una festa insomma che celebra tutta la cultura peruviana in una sola settimana per cui un'occasione unica per scoprire questa parte del Perù e veniamo insomma adesso a quello che è uno dei dipartimenti più più conosciuti una delle regioni più conosciute quella di Cusco vedete che si trova in quella in quella fascia andina di cui abbiamo parlato quasi i confini con con la foresta amazzonica Cusco si è il dipartimento ma è anche la città insomma che è stata capitale anche dell'impero incaico una città da scoprire anche qui da dedicare almeno un paio di giorni perché è una città insomma che conserva nuovamente grandi tradizioni del proprio passato anchezza però comunque sia molto vivace molto proiettata verso il futuro il quartiere di San Blas è ad esempio il quartiere Bohemian assolutamente insomma da visitare fare un giro nelle botteghe una parte appunto della città molto 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 vivace sia di giorno sia di sera tra i suoi ristorantini la piazza principale che è insomma il fulcro della vita cittadina con le sue insomma due chiese famosissime molto molto particolari scusatemi molto molto particolari la cattedrale e il tempio della compagnia entrambe sono molto interessanti dal punto di vista architettonico e tanto per farvi un esempio incuriosire un po' anche voi sappiate che ad esempio nella cattedrale è costruito un curioso quadro dell'ultima cena in cui viene servito il cui il porcellino d'India pietanza tipica di queste zone delle Ande per cui si tratta insomma di chiese costruite in epoca coloniale ma che conservano una forte anima legata appunto all'appartenenza al territorio ma non è soltanto questo insomma al di là della valle sacra proprio alle porte della città di Cusco o nella città di Cusco ci sono interessanti siti archeologici come ad esempio Coriccianca che oggi in realtà è il convento di Santo Domingo eretto su questo tempio l'antico tempio del Dio Sole degli Inca che si pensava fosse al centro del mondo per cui la base rimane quella del tempio sulla quale poi appunto gli spagnoli eressero invece il convento vero e proprio tanto per farvi un esempio e poi ovviamente si parte Cusco città e la porta di accesso quella che poi è la valle sacra degli Inca valle sacra in cui insomma ci sono avventure per tutti i gusti partiamo con le saline di Maras questo complesso di saline utilizzato in realtà già in epoca preincaica ma anche in epoca incaica e tuttora utilizzato proprio per l'estrazione del sale adesso non è più possibile camminare insomma su questi camminamenti come vedete a diapositiva ci sono però degli ottimi bel vedere da cui la vista è comunque impagabile per cui non insomma diciamo l'escursione non ha assolutamente perso nulla ma si è cercato appunto di tutelare quella che è la insomma la ricchezza storica di questo di questo luogo identificando alcuni bel vedere la vista appunto si apre su queste oltre 3000 saline che sono utilizzate appunto da tempo in memore per cui assolutamente un'esperienza da consigliare un'esperienza da includere nel proprio tour nella valle sacra da qui appunto anche una visita a morai centro di sperimentazione agraria degli inca quindi su ogni terrazza circolare a seconda della temperatura gli inca cercavano di coltivare una semente differente per capire appunto quali condizioni favorissero la crescita di uno o dell'altra semente e poi fondamentalmente espandere questo sapere in tutte le altre aree dell'impero è molto interessante perché ci dà già una prima idea di quanto fossero in realtà avanti queste popolazioni in particolare nella ricerca agraria ma non soltanto e anche perché appunto come potete vedere dalla diapositiva si tratta di un sito archeologico insomma dalla vita mozzafiato e poi insomma i treni insomma vediamo come raggiungere quello che invece è il sito archeologico più iconico sicuramente della destinazione è possibile appunto raggiungere dalla Valle Sacra partendo da Yantaitambo in particolare il sito archeologico e Aguascalientes attraverso alcuni treni anche qui ce ne sono un po' per tutti i gusti e tutte le tasche partiamo da treni di lusso insomma a treni di categoria più economica che sono tutti ugualmente interessanti il panorama al di là insomma della tipologia di treno che si scelga è sempre impagabile si attraversa la parte di questa parte della Valle dell'Urubamba che è assolutamente scenica quindi non diciamo che è un viaggio che anche dal punto di vista visivo ci dà la possibilità insomma così di rilassarci di farci veramente immergere nella natura di questi luoghi panorami veramente unici e poi insomma per diciamo i nostri clienti più attivi i vari trekking che sono disponibili il più famoso è sicuramente il cammino inca è disponibile da 4 o da 2 giorni cosa importante da ricordare che il cammino inca è a numero chiuso sono infatti ammesse 500 persone al giorno attenzione guide comprese scusatemi mi è andato avanti guide comprese il carico massimo consentito per persone di 20 kg insomma ci sono tutta una serie di accortezze per poter affrontare questo percorso cortezze che permettono appunto di tutelare quelli che sono i camminamenti inca perché infatti durante questo trekking si percorrono le strade che furono già percorse e costruite dalla popolazione inca durante la loro dominazione per cui un patrimonio di inestimabile valore che potrete capire va assolutamente assolutamente tutelato mi raccomando appunto di prenotare con un certo anticipo qualora i propri clienti volessero fare un percorso da quattro o da due o da due giorni ma ci sono anche delle valide alternative diciamo a questi percorsi un po' più conosciuti un altro trekking di difficoltà media ma che dà assolutamente la possibilità di vedere panorami mozzafiato siti archeologici anche un po' più da intenditore ad esempio il trekking di Lares un trekking di difficoltà media dura quattro giorni volendo si può se ne possono percorrere alcune parti in auto all'interno del trekking sono disponibili insomma le esperienze più variegate sicuramente oltre ai panorami e da segnalare che vi è la possibilità di visitare piccoli pueblos come ad esempio proprio quello di Lares che difficilmente vengono insomma così inclusi in itinerari insomma sono intaccati dal turismo di massa per cui nella destinazione nella regione tra le più turistiche del paese è comunque sia possibile fare esperienze un po' più a contatto con la natura anche autentica di questi luoghi come ad esempio queste e in più appunto altro plus sono disponibili dei loggio dei rifugi nei quali si può pernottare quindi durante il trekking non è obbligatorio insomma il pernottamento in terra e poi insomma da qui attraverso tutte queste questi percorsi o in treno o insomma a piedi e chi più ne ha ne metta si giunge insomma prima ad Aguascalientes che insomma è anche chiamata Machu Picchu Pueblo e poi al sito archeologico di Machu Picchu sul sito insomma già lo conoscete sicuramente ne avete sentito parlare abbondantemente per cui mi raccomando l'unica raccomandazione che mi sento di fare è di prenotarlo in altissima stagione con un certo anticipo appunto perché anche il sito archeologico è a numero chiuso così come è a numero chiuso anche la scalata del monte che vedete di fronte alla diapositiva che è Wainapicchu da consigliare mi raccomando a chi magari è un po' allenato perché comunque sia la camminata è su una pendenza abbastanza importante a chi non soffre di vertigini perché appunto il sentiero è abbastanza ripido per cui queste le principali raccomandazioni potremmo fare in realtà un webinar anche su Machu Picchu per cui non mi dilungo più di tanto e ho deciso di includere in questa occasione una delle esperienze più richieste dai nostri clienti negli ultimi tempi per cui anche le montagne arcobaleno mi raccomando le montagne arcobaleno sono da consigliare insomma soprattutto quelli di Vinicunca a chi ha già un pochino di preparazione fisica perché ci troviamo a sfiorare i 5.000 metri di altitudine il tragitto che porta a Vinicunca è un tragitto dal punto in cui si lascia o l'auto si scende dal minivan la pendenza è abbastanza importante per cui comunque bisogna essere un po' allenati tenendo appunto conto delle altitudini a cui ci troviamo e del fatto che il sentiero non sia proprio semplicissimo in alternativa proponiamo anche le montagne arcobaleno di Palcoio anche qui come per quelli di Vinicunca si fanno in escursione giornaliera da Cusco quelli di Parcoio diciamo che presentano qualche piccolo vantaggio rispetto a quelli di Vinicunca soprattutto in termini insomma di fatica per cui già arrivando nel parcheggio fondamentalmente è possibile avere una visuale sulle prime montagne arcobaleno perché qui le montagne sono più di una si apre come se fosse lo vedete dalla diapositiva una visuale quasi a 360 gradi qui ovviamente a 180 ma su queste su queste montagne e appunto sono già visibili appunto appena arrivate una volta arrivati il trekking io lo chiamerei più che altro una camminata è un trekking che si svolge quasi in piano per cui è un po' più semplice l'altitudine però rimane quella di Vinicunca per cui ci troviamo sempre a sfiorare i 5.000 metri di altitudine per cui è bene tenerlo presente il nostro viaggio virtuale di oggi purtroppo si conclude qui trovate tutte le informazioni ulteriori approfondimenti anche sui trekking e quant'altro sul nostro sito dedicato all'e-learning www.peruagent.com quindi che vi invito a completare e finalizzare e se aveste bisogno insomma in questo periodo di brochure abbiamo rezzo disponibile in maniera totalmente gratuita questa applicazione disponibile sia per iPhone sia per dispositivi Android per u-brochure all'interno della quale ci sono una serie di mini guide totalmente neutrali per cui potete consultarle sia voi sia i vostri clienti lascio insomma la parola a Gianluca così entriamo insomma nel vivo di queste destinazioni e vediamo come poterle insomma sperimentare grazie a Conrad grazie mille Gianluca ti giro lo schermo certo eccomi qui grazie Serena come al solito fantastica presentazione soprattutto questa idea di viaggiare con gli occhi con queste foto incredibili che Promperu mette a disposizione per tutti noi è pazzesco benissimo io mi occupo diciamo della parte meno meno sognante più effettivamente attiva della nostra della nostra destinazione Perù e ricordandovi ovviamente che Conrad Travel si occupa in maniera diciamo con con grandissima passione ma soprattutto con una esperienza che ormai è arrivata a 20 anni di attività di tutto il continente americano nord centro sud america ovviamente l'america latina per noi è una delle destinazioni più importanti lo sarebbe stato in quest'anno diciamo non molto fortunato ancora di più le eh la destinazione Perù era in assoluto eh la più venduta soprattutto per le partenze estive ed è veramente piuttosto deprimente stare qui continuare a fare soltanto cancellazioni di questi bellissimi viaggi la stragrande maggioranza dei quali erano completamente viaggi su misura quindi anche con un con una come facciamo sempre con una volume di lavoro corposo dedicato a ogni singola prenotazione vederlo andare in fumo è veramente una cosa che dà dolore fisico direi eccomi qui io non posso essere con voi in video per problemi tecnici nella mia webcam che sembrano irriparabili però penso cambiare il computer a questo punto però eccomi qui a Machu Picchu qualche anno fa con Rattrave ripeto come ovviamente per tutte le aziende si è si è adattata la nuova situazione quindi siamo raggiungibili esclusivamente per email se avete qualche urgenza basta chiamare il nostro numero e c'è appunto la segreteria telefonica che dà i nostri contatti per essere raggiunti ma comunque vediamo le nostre email praticamente non abbiamo altro da fare quindi vediamo le vostre vite in maniera anche quasi maniacale ogni ogni secondo e allora tecnicamente come si visita il Perù si visita con soluzioni di tour guidato più o meno costruiti come vedremo insieme poi nella mia breve presentazione e abbiamo quattro soluzioni quattro livelli diciamo ecco diciamo così di servizi da proporre ai vostri clienti la prima la soluzione più canonica più classica è quella di partecipare a una delle partenze fisse date fisse di gruppaggio che abbiamo a disposizione ovviamente itinerario e date sono fisse non modificabili i servizi sono collettivi e la guida è garantita sempre in italiano la cosa la seconda diciamo secondo livello seconda categoria che è quella che con la travel nettamente vende di più è le partenze individuali a date libere con le stesse itinerario su per giù con lo stesso itinerario e servizi sempre collettivi e guida garantita in italiano esclusiva appunto in italiano per tutte le attività le visite le escursioni eccetera eccetera per chi vuole un livello ancora più superiore la possibilità di realizzare partenze individuali a date libere quindi sempre servizi individuali ma in questo caso con servizi in privato con la guida autista guida in italiano dedicato per ogni singola zona che si va a visitare anche questo per Coral Travel è un segmento molto importante di vendita devo dire è sempre crescente per chi vuole invece risparmiare non ritiene che la guida in italiano soprattutto la possibilità di essere accomunati ad altri passeggeri italiani sia determinante la possibilità di avere sempre partenze individuali a date libere ma con servizi collettivi in spagnolo inglese questa è una cosa che stiamo vendendo sempre di più non solo per chi vuole risparmiare ma anche per chi ha dimestichezza con la lingua spagnola o la lingua inglese non ha nessun tipo di difficoltà ad affrontare questo tipo di esperienza queste sono in linea di massima le quattro soluzioni primarie che abbiamo a disposizione ce n'è una quinta di cui vi parlerò adesso e andiamo a fare un breve diciamo refresh di tutte le nostre i nostri tour questo è il tour più venduto in assoluto che si chiama il Grand Tour che è disponibile come diceva appunto sia con partenze garantite di gruppaggio a date fisse che con partenze individuali a date libere ed è praticamente comprende esattamente il Peru classico che Serena ha perfettamente illustrato in precedenza tutte le tappe imperdibili quindi Paracas le linee di Nasca poi la meraviglia della città bianca d'Equipa poi il canyon del Colca poi lago di Ticaca e infine Cusco la Valle Sagra e Maciupiccio che è qui e alla fine l'unico volo interno è quello che riporta verso Lima per poi ritornare in Europa oppure fare altre estensioni e molto importante questa questa la cosa di cui abbiamo parlato prima di cui abbiamo parlato prima Serena è il discorso dell'acclimatamento all'altitudine è una cosa fondamentale cioè nella costruzione del viaggio noi insieme a voi dobbiamo sempre ricordare chi sono i nostri passeggeri sono anche la loro condizione fisica l'età tutte queste cose perché questa destinazione ovviamente ci porta a toccare vette veramente alte e farlo a gradi seguendo una gradazione logica e ideale è fondamentale e questo itinerario fa esattamente questo perché si passa appunto dal livello del mare alla prima tappa importante 2400 metri 3600 metri ci vai quasi 4000 del lago Teticaca per poi scendere leggermente dai 3004 super giù di Cusco e poi scendere ancora di più per la Valle Sacra questo è assolutamente fondamentale è fondamentale sia per i passeggeri di una certa età ma anche soprattutto per considerarlo per chiunque perché ripeto come ho già raccontato anche il sottoscritto nel corso dei suoi viaggi in questa destinazione ha avuto l'incontro piacevole con il soroce cioè con il mal di altitudine e quindi bisogna acclimatarsi in maniera ideale queste sono un po' le destinazioni che tocchiamo negli itinerari classici ovviamente dalla meraviglia della città coloniale di Cusco alla meraviglia coloniale di Arequipa alle isole galleggianti del lago Teticaca e i vari i villaggi incaici o pre-incaici che incontriamo nel corso del nostro viaggio versione più breve naturalmente i programmi sono anche tarati per le disponibilità di tempo non solo economiche che i clienti hanno questo è leggermente più breve come vedete salta tutta la parte della costa personalmente la ritengo una scelta sbagliata sono sicuro che Serena è perfettamente d'accordo con me però se c'è questa diciamo disponibilità ridotta di tempo questa è una soluzione che io ritengo che noi riteniamo assolutamente valida sia perché è disponibile sia come tour guidato a partenza fissa che come itinerario individuale sia perché comunque consente un acclimatamento umano ok perché si si vola da zero meteo su per giù ai 2400 di arequipa ma comprende la visita del canyon del colca che non è soltanto un luogo straordinario meraviglioso ma permette di acclimatarsi all'altissima montagna quella che andiamo poi a scoprire con il resto del viaggio la tappa di cipari come raccontava serena comprende appunto la visita del canyon del colca che è una delle meraviglie assolute indiscutibili di questo straordinario paese dal mirador del colca si ha appunto l'incontro ravvicinato con questi incredibili padroni della valle queste sono tutte le persone appunto che assistono al sorbolo del condor considerate che il condor usa principalmente correnti ascensionali e discensionali quindi il suo sforzo è minimo grazie anche a queste ali immense che è uno spettacolo veramente unico ma al di là dello spettacolo unico di avvistare il condor proprio soltanto la zona come vedete il canyon è incredibile quindi personalmente categoricamente da inserire versione ancora più veloce proprio quella minima secondo me ma minimissima punto di partenza diciamo dal punto di vista della tempistica del viaggio non tanto e non solo del budget ma la tempistica del viaggio è sicuramente il Peru Express il nome lo dice stesso è proprio l'Express perché in questo caso è come il Peru Colca che abbiamo visto prima ma senza la tappa del canyon del Colca molto penalizzante sia perché si perde il canyon del Colca sia perché si fa una tratta veramente diciamo dal punto di vista delle altitudini molto impegnativa da Arequipa a Puno in una sola giornata il sottoscritto l'ha fatto nel corso dell'ultimo viaggio e vi assicuro che si arriva a Puno stralunati ok e si ha poi l'incontro con le vali soluzioni per sistemare la questione del Soroce quindi il Mater de Coca le foglie di coca o alle brutte il topico cioè la stanza con l'ossigenazione ok vi dicevo della quinta soluzione di viaggio sempre itinerario guidato che Conatravel mette a disposizione ai vostri passeggeri la soluzione con il viaggio con il pullman pubblico turistico di altissimo livello è considerato prima classe quindi affidabilissimo ma in totale libertà in questo con questa filosofia e come vedete veramente costa molto poco considerare un itinerario di 14 giorni abbiamo due soluzioni il Peru in libertà che prevede tutti i pernotamenti gli spostamenti in pullman pubblico i trasferimenti da hotel a ogni stazione di pullman pubblico e alcune principali escursioni che devono essere comprese come per esempio le isole Baiestra Stapparacas e ovviamente il Maciupiccio che non può mancare perché deve essere prenotato preventivamente altrimenti non si entra perché c'è il numero chiuso la mattina e il pomeriggio questa è una soluzione abbiamo invece un'altra soluzione l'itinerario è praticamente identico ma si chiama Peru Overland e in questo caso le escursioni comprese sono molte di più già comprese nell'itinerario e sempre con guida parlante italiano quindi l'itinerario vi faccio un esempio il Peru in libertà costa da 1650 euro per Pax sempre più voli intercontinentali ovviamente mentre il Peru Overland costa 1950 ecco per darvi un'idea e si viaggia con questa rete queste varie reti di pullman privati turistici che sono comodissimi con wifi a bordo sedili riteniabili e un servizio impeccabile tutte le stazioni sono strutturate perché hanno appunto il bar il ristorantino insomma è una cosa che per chi non vuole spendere cifre importantissime ma sempre importanti sono ovviamente e vuole la flessibilità anche di poter decidere cosa fare è una soluzione ideale che di fatti vendiamo moltissimo devo dire itinerari più strutturati con cose più particolari che ci piace molto proporre e anche grazie a Dio vendere questo è il Peru Active che comprende tutte le tappe classiche del Peru tranne la zona di Arequipa e il Cagnolo de Colca che in questo caso ahimè non sono considerate è un tour guidato a partenza rigorosamente individuale quindi niente date fisse si fa individualmente si parte ogni giorno dell'anno e comprende appunto questo itinerario che vi faccio evidenziare in questo caso si passa per la le ande dalla parte diciamo centro-sud e non dalla parte sud come normalmente si fa si arriva prima a Cusco si vola poi verso la zona di Madre di Os e Puerto Maldonado che vi presenterò in dettaglio più avanti e poi si prosegue sempre in pullman turistico ovviamente con i nostri servizi verso il lago di Ticatrica che è l'ultima tappa visita del lago di Ticatrica che poi si vola verso Lima per tornare in Italia l'itinerario come vedete è molto lungo ma soprattutto ha tantissime esperienze attività già comprese come queste appunto il la la visita della della zona della Valle Sacra Inca a cavallo il sandboarding di cui la zona di Ica appunto Nazca eccetera è una delle delle zone leader del mondo quindi fare surf sulla sabbia per capirci il biking nella zona di Cusco e il rafting nella del rio Urubamba insomma sono varie esperienze che sono già comprese in questo itinerario che lo rendono veramente particolare per un viaggiatore attivo che vuole il brivido di tutte queste varie esperienze da includere ovviamente immancabile è il trekking in questo caso che è il trekking del del Camino Inca di due giorni e ovviamente anche questo per le ovvie necessità del trekking Camino Inca prevede una prenotazione molto anticipata altra soluzione sempre attiva ma meno attiva e più e anche più diciamo mixata con l'aspetto culturale che nel Perù è fondamentale di fondamentale importanza è il Perù avventura e cultura uniti di area anche questo piuttosto lungo di 14 giorni 13 notti le partenze sono rigorosamente individuali quindi nessuna data fissa e da due passeggeri e queste sono le tappe che sono che sono appunto incluse anche con la tappa di Abbancai che è questa questa valle qui che vedete qua l'itinario tocca anche la riserva di Pampas Galeras con le Vicugnas che qui che dominano tutto il territorio animali andini per eccellenza ovviamente il trekking fino a Machu Picchu e il sandboarding appunto che non può mancare con questi con questa la navigazione diciamo così sulla tavola da board appunto della sabbia e anche questa è un'esperienza ricca di esperienze veramente particolari per il viaggiatore che vuole questo tipo di viaggi per il trekking proprio hardcore proponiamo il sentiero reale degli incas il sentiero ideale reale cammino reale degli incas il tour guidato di nove giorni otto notti partenza ogni giorno dell'anno con grande anticipo ovviamente della prenotazione come abbiamo ben spiegato e come vedete questa è un'esperienza ben più corposa sia dal punto di vista di servizi che dal punto di vista dei costi ovviamente considerate che appunto il prezzo che vedete parte da quattro passeggeri con una serie di servizi strutturati come vedete categoria premium o categoria deluxe con sopporto con le tende con la pensione completa con i porta i porta gli assistenti che portano i pesi e ripeto due livelli che se avete voglia di approfondire non possiamo farlo per ragioni di tempo potete farlo sul nostro sito o scrivendoci per un'esperienza trekking veramente seria ed esaustiva e omnicomprensiva l'itinerario tocca sia una parte di itinerario di Camino Inca che Camino Lares di cui abbiamo parlato prima ovviamente in tutti questi itinerari possiamo includere l'estensione sia di full day da Cusco andata e ritorno che anche fare una notte diciamo tra virgolette rifugio per la scoperta delle montagne a cobaleno in entrambe le destinazioni quindi Vinicunca per i più allenati e più hardcore anche in questo e Palcoglio invece per chi vuole farlo sempre con un discreto dispendio di energia fisica e di acclimatamento ma in maniera più comoda itinerari ancora particolari questo comprende il meglio del Perù dal punto di vista archeologico storico della regione delle Ande del Sud ma con particolare attenzione a una delle attrattive principali del Perù che è sicuramente la sua cucina patrimonio immateriale dell'umanità unesco e ritenuta in assoluto leader mondiale oramai stiamo parlando di questo livello Serena faceva menzione di quanti ristoranti Michelin ci sono nel distretto di Lima di come la cultura questa cucina nuova cucina fusion tra tutte le varie influenze mondiali e la tipica cucina peruviana soprattutto peruviana andina sia abbia portato questa cucina alla ribalta mondiale e quindi abbiamo deciso di insieme ai nostri partner peruviani di creare appunto un'esperienza ad hoc in questo ovviamente totalmente individuale quindi si parte tutti i giorni dell'anno e comprendendo varie tappe sia di scoperta di ristoranti importanti e molto quotati che anche l'esperienza di una piccola breve lezione di cucina per fare delle cose insieme allo chef ai vari chef soprattutto gli chef dei pueblos intorno a Cusco quindi le signore diciamo così inca o potrebbe anche essere pre inca chissà cosa si incontra di questi pueblos e quindi fare un'esperienza veramente breve in mano che rimarrà e magari viene anche portata in Europa e viene replicata a casa alcune delle specialità sono queste ma ce ne sono veramente tantissime altre ripeto l'importanza della cucina peruviana è di importanza top fondamentale è una parte importantissima dell'esperienza di viaggio in Perù per ultimo parlavamo dell'estensione natura nella regione di Madre de Dios particolarmente si atterra appunto a Puerto Maldonado con voli da Cusco si raggiunge anche via terra ma il trasferimento è lunghissimo l'abbiamo proposto alcune volte per persone che non volevano prendere i voli interni ed è un trasferimento veramente lungo e tortuoso e ovviamente si scende molto di altitudine e si esplora questa zona straordinaria dal punto di vista naturalistico diciamo che la composizione che più ci capita di vendere è quella appunto di inserire l'estensione a Puerto Maldonado da Cusco e poi da Puerto Maldonado volare direttamente verso Lima per il ritorno in Europa come avete visto alcuni itinerari come l'avventura trekking e il peru active scusate comprende già l'escursione a Puerto Maldonado da Cusco andato e ritorno in aereo ovviamente anche qui le soluzioni di lodge sono molteplici ma tutte come vedete già per partire da un livello diciamo già molto alto come vedete come l'azienda Concepzione facente parte del gruppo Incaterra e nella riserva naturale Tambopata e il pacchetto normalmente parte da tre giorni due notti che è più che sufficiente ma naturalmente si può estendere di una notte o due a richiesta del cliente come vedete il prezzo su cui parliamo ovviamente solo di servizi a terra a cui deve essere aggiunto il costo del volo nazionale interno per raggiungere il Puerto Maldonado da Lima o da Cusco e questo è il trasferimento sul Rio e tutte le attività ovviamente in pensione completa e attività diurne e notturne che sono incluse appunto nel soggiorno all'azienda Concepzione come vedete le stanze sono veramente perfettamente integrate nel contesto naturale della riserva e tutte le varie attività come le puente colgante che vedete qui davanti che già soltanto vederlo mi fa venire le vertigini preferisco molto di più il trasferimento sul Rio personalmente e livello ancora superiore la riserva masonica sempre nella stessa riserva naturale del Tampa Opata e sempre facente parte del gruppo Incaterra e come vedete qui la spesa è leggermente superiore a cui aggiungere sempre i voli interni per raggiungere Puerto Maldonado ma il livello come vedete è assolutamente alto altre foto della riserva masonica con la sua camminata sui tronchi d'albero tagliati tutte le attività e come vedete le camere sono veramente carine ed accoglienti e chiaramente totalmente in tema questa è una estensione che consigliamo moltissimo anche perché è un break se vogliamo filologico anche non solo dalla natura delle ande ma anche dalla straordinaria preponderanza dalla cultura inca o preincarica che si è ammirato in cui siamo stati immersi nel corso del nostro viaggio e si spezza completamente questo filone addentrandoci in questa riserva naturale straordinaria ricordo sempre come abbiamo fatto per il Perù del Nord che si può fare gli ultimi giorni di mare prima di ritornare in Italia sempre in Perù dedicando qualche giorno alla regione del nord estremo nord del paese e quindi godendo di queste straordinarie spiagge vergini della zona di Mancora di Piura eccetera di Tunves in alcuni hotel molto carini lontanissimi dal turismo di massa da hotel megagalattici che trovate in altre destinazioni come questo il Sunset Mancora che utilizziamo sempre boutique hotel che abbiamo incontrato in alcune fiere in cui i nostri clienti che hanno avuto la bontà di fare questa scelta sono trovati benissimo la spiaggia è stupenda chiaramente non è caraibica sabbia bianca e palme ma le palme ci sono come vedete e si ha chilometri chilometri di spiagge a propria disposizione inoltre e nei periodi indicati l'incontro con queste creature del mare straordinarie come le balene durante la loro migrazione da nord a sud e le tartarughe marine che in questa zona hanno il loro habitat quindi come vedete è una soluzione molto intrigante che può essere tranquillamente inclusa come estensione balneare finale per esempio per un viaggio di nozze e facendo anche una cosa molto particolare perché nessuno o pochissimi ai noi considerano il Perù come estensione appunto anche balneare rimanendo rimanendo oltretutto nello stesso paese e contenendo in maniera fortissima i costi che ovviamente aumentano molto di più per un abbinamento a un altro paese un'altra destinazione per il soggiorno balneare io con questo concluso vi ricordo che Conrad Travel appunto da vent'anni è a vostra disposizione per tutte le destinazioni del continente americano nord centro sud sul nostro sito vi potete registrare in questa area agenzie e quindi ricevere automaticamente tutte le nostre newsletter le comunicazioni sui prossimi webinar le comunicazioni sui prossimi eventi fisici che non vediamo l'ora di tornare a fare soprattutto con ProUnPeru abbiamo un ballo varie cose quindi non vediamo l'ora di realizzare di poterli realizzare che tutta la situazione si tranquillizzi e ritorni alla più possibile normalità siamo attivi sui social media su questi social media appunto che vedete principalmente su Facebook e su Instagram in cui riportiamo con le nostre immagini le nostre esperienze di viaggi e anche le esperienze di viaggi di alcuni dei vostri clienti che hanno così la bontà di inviarvi questi viaggi e di foto e volerle condividere insieme per ultimo i nostri fan trip le agenzie che danno a noi fiducia noi diamo loro fiducia evitandole a partecipare a questi questi viaggi incredibili di formazione in tutte queste destinazioni che abbiamo toccato manca soltanto il Peru e quindi io confido moltissimo nella collaborazione con PromPeru per metterlo sulla mappa come prossimo fan trip con la travel da realizzare appena possibile io con questo ho concluso e quindi ripasserei la parola a Riccardo e Serena grazie Gianluca grazie per insomma averci sia te che Serena riportato un po' a quello che speriamo torni ad essere la normalità molto presto allora mi inizio a girare un po' di domande la prima è per Serena per le Rainbow Mountain quanti giorni consiglieresti? uno o due? no allora le escursioni normalmente si fa in giornata nel senso si parte che siano quelle di Vinicunca o quelle di Palcoio si parte di solito molto presto la mattina quindi siamo più o meno tre e mezza quattro del mattino si raggiunge appunto si raggiungono le montagne colorate si fa il trekking e si torna indietro per cui solitamente Gianluca anche tu correggimi secondo la tua programmazione è sufficiente un giorno si è vero però abbiamo anche venduto varie volte la soluzione due giorni e una notte per chi aveva più tempo mi serviva la prendere più comoda anche per chi magari non si sente si sente più insicuro dal punto di vista fisico di affrontare una cosa del genere però sicuramente il full day è quello nettamente più venduto grazie lo chiedo a tutti e due a questo punto Chiara chiede considerando i diversi paesaggi e altitudini qual è il periodo migliore per effettuare un viaggio che tocchi tutte le località del sud o perlomeno le località del quale avete parlato la stagionalità scusa parto io Gianluca poi se tu vuoi fare ovviamente un inciso ben volentieri la stagionalità da tenere presente è quella che abbiamo sempre nominato anche nel nel webinar precedente per cui in linea generale la stagione migliore per visitare il Perù parte da aprile e arriva fino alla fine di ottobre più o meno nel senso io ho viaggiato personalmente in Perù all'inizio di dicembre più o meno verso l'otto di dicembre e ho incontrato un tempo meraviglioso per esempio però ecco diciamo che in generale la stagionalità da insomma da tenere in considerazione è quella poi diciamo che un pochettino magari il cambio climatico che influisce non soltanto sul Perù e sulla stagionalità peruviana ma su tutte compresa la nostra può eventualmente favorire anche qualche mese successivo alla fine della insomma della cosiddetta stagione stagione buona però ecco è da tenere a mente che in generale quella è la stagionalità corretta sì confermo ok Gianluca tutti i tour sono su base individuale quelli di Conrad sì assolutamente anche la maggioranza dei tour ha due soluzioni come dicevo la partenza data fissa i tour più gettonati quindi quelli che toccano tutte le destinazioni che abbiamo di cui abbiamo parlato oggi sia tutto via terra quindi partendo da Lima e facendo tutta la costa Nasca le isole Bayestas Nasca Arequipa e salendo su per le Ande fino al lago Titicaca e poi Cusco Valle Sacra e Maciubiccio eccetera sia le versioni ahimè più brevi che ripeto io tenderei a sconsigliare però mi rendo conto che molti passeggeri non hanno moltissimo tempo a disposizione quindi quelli che prevedono i voli interni per esempio Lima Arequipa o addirittura Lima Cusco ecco considerate anche il fatto non abbiamo detto che ci sono anche delle soluzioni ancora più brevi diciamo ovviamente individuali si fa soltanto Lima e Cusco e la Valle Sacra ma questa è una roba brutale perché partite dal livello del mare e arrivate a 3000 passametri basta saperlo ok cioè basta considerare per esempio il fatto che ci vuole almeno un giorno per acclimatarsi sicuramente ma la stragrande maggioranza dei nostri delle nostre proposte hanno due livelli di soluzione quindi o partire insieme ad altri passeggeri italiani ok con servizi compartiti e ovviamente una soluzione costa di meno ma ha la rigidità delle date fisse e dell'itinerario fisso oppure fare gli stessi itinerari o magari modificandoli su misura a cosa che noi facciamo ogni giorno partendo a livello individuale è una soluzione che normalmente costa un pochino di più ma ovviamente dà la garanzia del fatto che il viaggio diventa quello che uno esattamente vuol fare ok mi aggancio alla tua risposta poiché ci hanno richiesto più volte i propri dislivelli le altitudini che si raggiungono quindi da quanto si parte a quanto si arriva insomma poiché insomma mi è sembrato di capire abbiamo visto nella presentazione di Serena si parte da quasi il livello del mare di Lima quanto sono? 200 metri? una roba del genere guarda di solito non lo includo perché siamo praticamente non è meno che si contano già la prima tappa è Arechiva che è 2004 il Cagno del Cocca che è 3006 il Lago di Ticaca che è 3009 3009 dico e poi si scende tra virgolette verso Cusco che è più basso 3003 no? 3004 3004 per poi scendere poi ironicamente per il Maciubiccio che è ancora più basso che è 2004 ma non so se ci rendiamo conto delle altitudini di cui stiamo parlando quindi è da fare come appunto Serena vi ha detto in maniera perfetta considerando l'acclimatamento quindi facendolo gradualmente già il problema per esempio di saltare la parte costiera e quindi saltare le linee di Nasca a parte il dolore proprio fisico che mi crea quando lo devo vendere così che mi dà proprio fastidio perché si perde una parte incredibile del paese ma comunque già si parte dall'altitudine quasi zero di Lima e si atterra a 2400 metri noi diciamo normodotati diciamo così non crea un grandissimo problema però ci sono già persone che che hanno un tipo di rimbalzo da questo punto di vista ma naturalmente la fase successiva è quella critica io vi ripeto per esperienza personale ho fatto Arequipa Puno in un giorno e insomma tipo la sera non ho mangiato mate de coca insomma c'è voluto un giorno e mezzo per rientrare in noi stessi ok la cosa ideale è fare la tappa di Civai perché la tappa di Civai cioè il cagno del corca ci permette di spezzare questo itinerario non solo come chilometraggio ma anche come altitudine perché già da 2004 si passa a 3600 che è già una botta tremenda però si fa in due giorni questo tratto e quindi è molto più facile da fare e soprattutto si viene del cagno del corca che merita categoricamente la tappa grazie per Serena due parole sulla festa di Inti Raimi vale la pena vederla? assolutamente sì è una festa splendida è la festa dell'Inti Raimi e la festa del Dio Sole che si svolge il 24 giugno a Cusco è una festa assolutamente assolutamente coinvolgente una festa che era stata vietata in epoca coloniare e che invece poi col passare del tempo gli abitanti del luogo hanno ripreso cercano di celebrarla secondo l'antica tradizione incaica per cui è proprio una di quelle occasioni dove davvero si vede come le tradizioni del passato facciano ancora parte del quotidiano in maniera molto importante e molto significativa per questa popolazione giustamente così legata al suo passato importante quindi sì mi raccomando solo qualora si volesse visitare Cusco durante il periodo di questa festività di prenotarlo con un po' di anticipo perché chiaramente l'Inti Raimi non solo richiama una buona fetta di turismo internazionale ma richiama anche una buona fetta di turismo interno per cui è solo bene appunto prenotarlo con un po' di anticipo però vale assolutamente la pena sicuramente anche costa di più cioè gli hotel costano ovviamente di più questa cosa non ne abbiamo parlato ma probabilmente anche giustamente visto che è stato cancellato per 2020 per gli ovvi motivi e ho ricevuto la notizia proprio la scorsa settimana e quindi si farà nel 2021 se gli dei degli Incas vogliono chiaramente però è una roba incredibile se soltanto stare nella zona di Sakspo Yaman dove si fa è veramente pazzesco e quindi è un'esperienza di fatti è venduto noi abbiamo realizzato vari viaggi individuali ma anche gruppetti nel corso degli ultimi anni unicamente cioè non unicamente vedere il Perù ma in in questa occasione appunto facendo l'esperienza io personalmente forse se posso dire la festa della Candelaria mi attira ancora di più devo dire è una cosa mia personale è un mio proprio feeling persona sì diciamo che uno può decidere in base al periodo in cui riesce a vaggiare la Candelaria sì a febbraio l'altro è a giugno per cui insomma ma diciamo che sebbene la festa de la Argentina mi sia impressionante io non ho mai avuto il privilegio di avere l'esperienza però vi ricordo il nostro gruppetto che ci andò tre quattro anni fa tornarono estasiati ma probabilmente la festa della Candelaria è qualcosa di ancora più forte perché poi sincretico no? mischia ovviamente le festività l'interpretazione delle popolazioni locali a quella che è una festività tipica cattolica a me queste cose mi hanno sempre fatto impazzire in tutta la America Latina devo dire mio tallone d'Achille se vogliamo ed è una roba straordinaria non possiamo se mi è permesso solo un secondo non riusciamo né io né Serena a comunicarvi quanto sia importante quanto sia fondamentale nell'esperienza di viaggio l'incontro con le popolazioni indigene non riusciamo cioè non è che non ce lo chiede non ci riusciamo perché è una roba talmente unica che è soltanto l'esperienza di viaggio può regalarla la zona andina dell'America Latina è un luogo unico se non se non per la natura i siti archeologici incredibili ma solo per questo vale dieci viaggi ecco questo forse da una dimensione dell'unicità dell'esperienza che si fa è vero Gianluca nel pacchetto nel pacchetto in Avazzonia di tre giorni due notti che escursioni sono incluse navigazione dei fiumi soprattutto avvistamento degli animali come parlavamo già per la zona di Kitos senza la presenza di una guida esperta biologa noi non vediamo nemmeno un animale di tre metri nella giungla vi assicuro lo dico per esperienza personale lo scorso febbraio cioè così e quindi è fondamentale la loro assistenza ci sono anche delle uscite notturne dopo cena non si cena molto tardi anche perché ovviamente alle sete di pomeriggio zack arriva il buio all'improvviso e dopo cena c'è le escursioni ci sono escursioni anche per vedere tutti gli animali perché come ci insegnano appunto gli esperti biologi la selva vive di giorno ma soprattutto esplode di notte ci sono animali che vivono soltanto di notte tipo le tarantole che ci è capitato di vedere appunto a febbraio grande come praticamente lo schermo del mio computer che ovviamente non si vedrebbero mai né di giorno ma vederle di notte oltretutto con la luce illuminata a 5 cm dai propri piedi vi assicuro è un'esperienza che va fatta una volta nella vita e oltretutto ci sono anche attività diciamo più naturalmente se le persone vogliono fare tipo rappel tirolina puentes colgantes cioè i punti sospesi che avete visto che è l'unica cosa che mi piace fare personalmente il resto svengo ogni volta ma vabbè quella è una cosa mia e i giorni sono pienissimi tre giorni due notti è il minimo che consideriamo considerato anche il fatto che mezza giornata si perde per arrivare e mezza giornata si perde per andare via e quindi sono due giorni pieni sì ok e per quanto riguarda le piogge ci chiede Floriana febbraio è comunque un periodo delle piogge oppure no febbraio sì è ancora un periodo di piogge sì perfetto cioè non può dire che piova in giorno eh sì esatto assolutamente eh servono vaccinazioni per l'estensione in Amazzonia Gianluca eh no è consigliata soltanto per un soggiorno molto più lungo cioè per esempio per le persone vanno lì a fare ricerche scientifiche eh anche ricerche antropologiche ehm allora in quel caso sì eh ricordiamo sempre come abbiamo fatto per per i chitos che eh la vaccinazione da febbre gialla che in alcuni casi è addirittura resa obbligatoria se si prosegue verso altri paesi faccio per esempio l'esempio più più classico quello di Aruba per fare il soggiorno banale lì allora se uno viene a Perù deve avere la il vaccino la febbre gialla già fatto ma è veramente una sciocchezza io l'ho fatto lo scorso anno agretinata proprio veramente è facilissimo e quindi noi come insomma PromPerù lo consiglia ovviamente non è obbligatorio però soprattutto come dicevi Gianluca visto che non è più niente di di che e più che altro che dura ormai tutta la vita quindi non è esatto quindi tendiamo insomma a consigliarlo a chi a chi può farlo una volta fatto insomma ci dà l'accesso comunque sia anche ad altri viaggi che invece lo richiedono come obbligatorio per cui insomma può essere quella l'occasione giusta eh Serena Gianluca io vi ringrazio ci sono c'è qualche altra piccola domanda tecnica che poi vi girerò io direttamente al quale potrete rispondere personalmente grazie benissimo grazie di tutto e vi auguro una buona giornata grazie a tutti voi grazie ancora a presto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti